Che nessun soltanto un figo sai L'italiano lo stanno imparando anche con le canzoni di Ligabue. Capita anche questo ai ragazzi stranieri che attraverso la cooperativa sociale Gioca Mondo arrivano in Italia per dei soggiorni estivi, volti a promuovere l'amicizia, la tolleranza e la comprensione reciproca fra giovani di paesi diversi. In questi giorni a Cupra Marittima infatti sono arrivati 23 ragazzi slovacchi provenienti dalla regione di Orava ai confini con la Polonia. Attualmente i giovani si trovano ospiti presso il camping Calipso e stamattina sono stati ricevuti in comune dal sindaco Domenico D'Annibali. Certamente questa è un'opportunità molto importante per il nostro paese che comunque ha delle ricchezze sia da un punto di vista paesaggistico, culturale, architettonico, storico, archeologico che è riconosciuto sia a livello locale ma a livello anche nazionale e internazionale soltanto che queste sono delle opportunità importanti affinché anche altri paesi al di fuori della nostra nazione possano quindi conoscere le nostre ricchezze e che possa essere questo un inizio di scambio di conoscenza tra culture diverse, tradizioni diverse. Lo scambio è stato possibile grazie all'intervento del consulente di progetto e consigliere della Camera di Commercio Italo-Slovacca Giuliano Bartolomei mentre il soggiorno nella sua parte logistica è stato organizzato da Stefano De Angelis della cooperativa Giocamondo. In questi giorni i ragazzi vivono quindi con i loro coetanei italiani conoscono il nostro territorio e condividono la comune cittadinanza europea in un'ottica di inclusione e prevenzione del disagio sociale. Un'iniziativa incomiabile e assai significativa per i ragazzi slovacchi che a fine cerimonia oggi hanno dato spazio anche alla loro cultura intonando, meglio rispetto al pezzo in italiano, un canto tipico del loro paese.